Voi siete i nostri fratelli e sorelle maggiori nella fede, apparteniamo all'unica famiglia di Dio che ci protegge come suo popolo. Così Papa Francesco ha parlato alla comunità ebraica di Roma nella sua storica visita alla sinagoga la terza dopo quella di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, iniziata con l'omaggio alla storia dolorosa della comunità, le lapidi in memoria della deportazione del 1943 e dell'attentato terroristico del 1982. In sinagoga il pontefice ha abbracciato il rabbino capo di Segni e incontrato alcuni sopravvissuti all'olocausto e nel suo discorso ha chiesto di non dimenticare mai la Shoah, disumana barbarie perpetrata in nome di un'ideologia che voleva sostituire l'uomo a Dio. Occorre sempre intervenire in difesa della dignità umana e della pace. Nella violenza, nella morte avranno mai l'ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell'amore e della vita. Noi dobbiamo pregarlo con insistenza affinché ci aiuti a praticare in Europa, in Terra Santa, in Medio Oriente, in Africa e in ogni altra parte del mondo la logica della pace, della riconciliazione, del perdono e della vita. Papa Francesco ha sottolineato che la violenza dell'uomo sull'uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome e in particolare con le tre grandi religioni monoteistiche. E con voi ebrei, a concluso, fratelli e sorelle maggiori nella fede, siamo chiamati ad assumerci le nostre responsabilità per la città di Roma e per le grandi sfide del mondo, perché un'ecologia integrale legata al messaggio biblico di cura del creato è ormai prioritaria.